Si legge Italia, si scrive Marche, perché saranno 22 i campioni marchigiani in partenza per Parigi, 17 atleti olimpici, il numero più alto di sempre, e 5 paralimpici. Una delegazione record che raggiunge quota 30 con tecnici, medici e dirigenti in partenza per i 5 cerchi parigini, ma come ogni grande viaggio che si rispetti, prima dell'imbarco c'è il saluto alla propria casa, dove far ritorno con una valigia, si spera, piena di medaglie. C'è anche una certa emozione, perché vedere qui tanti campioni affermatissimi e tanti altri giovani, ecco, ci dà molta soddisfazione, orgoglio, entusiasmo, ma anche consapevolezza che la nostra è una regione che sta crescendo tantissimo nello sport. Da Tommaso Marini a Sofia Raffaeli, da Carlo Macchini a Gianmarco Tamberi, sarà proprio Gimbo a portare il tricolore lungo la Senna per la terza volta nelle mani di un atleta marchigiano nelle ultime otto Olimpiadi. 12 anni fa era stata la volta di Valentina Vezzali a Londra, nel 1996, ad Atlanta, nelle mani di Giovanna Trillini, ora tra le fila dei tecnici. Dire che siamo particolarmente orgogliosi per avere ancora una volta il portabandiera che viene da questa regione, ancora mi emoziona solo a pensarci, perché sono quelle cose che chi non vive in questo mondo non sa che cosa significa essere il portabandiera nel momento più importante dello sport mondiale. Ma Parigi sarà anche Paralimpiadi a partire dal 28 agosto. Il contributo marchigiano alla nazionale è degno delle migliori pagine sportive. Cinque atleti, trainati dall'energia inesauribile di Assunta Legnante, che cercheranno il posto più alto del podio, quello più vicino, alla punta della Torre Eiffel. Il merito va a quelle società sportive che consentono a persone con disabilità di approcciare l'attività sportiva con tutti i benefici che noi tutti conosciamo.